Prima che cominci il video vi ricordo di partecipare al contest con in paglio 100 milioni trovate il link alla guida su come partecipare nella descrizione quindi passateci assolutamente Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video dove come avete letto dal titolo vi andrò a parlare della nuova offerta di Rockstar Games come avete letto dal titolo ragazzi maglie esclusive oggetti esclusivi e soprattutto un milione gratis vi lascio ovviamente la fonte nella descrizione ovviamente dal sito Newswire comunque probabilmente questa notizia ragazzi ve l'ho portata in ritardo perché appunto è uscita giovedì sera io ve l'ho portata sabato perché ho dato priorità insomma prima al glitch in solo comunque vi ricordo di iscriverti al canale e di attivare la campanella delle notifiche perché in settimana cercherò di portarvi più glitch questa settimana sono stato un po' impegnato quindi ve ne ho portati un po' di meno comunque come leggete insomma da questo screen preso direttamente dal sito della Rockstar per festeggiare un altro anno insomma di GTA Online Rockstar appunto ci regala un milione di GTA Dollars in omaggio a tutti quanti quindi senza avere requisiti e dopodiché insomma ha inserito anche degli sconti come ad esempio sul centro operativo mobile che adesso insomma vi farò vedere il quale ragazzi io vi consiglio di acquistare comunque alla fine del video vi darò i miei consigli personali su come spendere questo milione di dollari comunque andate più avanti nel video per sapere insomma quando vi verranno accreditati quindi come vedete Rockstar appunto ha aggiunto una nuova serie di sopravvivenza che ha le ricompense doppie fino al 2 ottobre domani vi porto un bel metodo per fare soldi senza requisiti con queste ricompense doppie quindi iscrivetevi ed attivate la campanella di notifiche ragazzi domani alle 11 comunque hanno anche messo le missioni doppie insomma sulle operazioni del centro operativo mobile che hanno anche scontato al 40% quindi se avete i soldi ragazzi compratelo e metteteci assolutamente il deposito veicoli personali per il semplice fatto che potrete fare i glitch e finalmente ragazzi questa qua è la notizia principale ovvero un milione di GTA Dollars che verranno appunto accreditati nel vostro conto Maze Bank entro il 9 ottobre quindi voi potrete fare il login su GTA Online da oggi fino al 2 ottobre dovete giocare per circa una decina di minuti insomma state online casseggiate per 10 minuti e poi potrete chiudere e vi ritroverete un milione di dollari entro il 9 ottobre quindi il 9 ottobre è la data insomma finale in seguito ragazzi se accedete sempre fino al 2 ottobre otterrete questa maglietta de classe che è rara insomma è esclusiva quindi vi consiglio di accedere anche per questo e infine ragazzi molti me l'avano chiesto perché non hanno avuto tempo di controllare l'auto del casino è appunto la de classe Mamba quella normale non modificata che comunque è sempre un'auto gratis quindi provate insomma la fortuna comunque il mio consiglio su come spendere questo milione di dollari quando lo riceverete il 9 ottobre è di prendere o il centro operativo mobile però vi consiglio anche di prendere il centro operativo mobile se avete i soldi adesso che è scontato al 40% quindi con il deposito ovviamente quindi vi consiglio di fare così se già ce l'avete ragazzi prendete l'arena war basta insomma vi basta un livello di officina così insomma potrete fare i glitch della duplicazione in alternativa vi fate una easy classic versione future shock e ve la modificate così insomma le duplicate e il valore è di 1.800.000 luna a copia insomma quindi ragazzi spero che questo video brevissimo informativo vi sia piaciuto spero che insomma vi sia stato utile vi ricordo di entrare nel gruppo nel canale telegram link nel commento bloccato in alto di iscrivervi al canale per i migliori glitch e contenuti su gta online vi ringrazio grande per la visione e noi ci vediamo al prossimo video